Sono particolarmente emozionata di essere qui con tutti voi e vi ringrazio, vi ringrazio di essere qui. Questo mi rende particolarmente felice ma soprattutto fa onore e rendo mangio alla memoria di Gian Maria perché oggi sarebbero tre anni che abbiamo mancato, quindi mi fa molto, molto molto piacere che voi siedi qua. Prendo un minuto ancora per ringraziare particolarmente le persone che hanno sostenuto questo bel progetto con me che mi hanno aiutato nel mettere insieme tutte queste belle idee per il libro e non tutti sono nominati nel libro però ho avuto un team e un supporto veramente molto grande e ringrazio tutti quanti. Detto questo non voglio rubare altri minuti preziosi e quindi vi passo la parola al... E vi saluto tutti. Ecco, grazie.